Impugnatura anteriore in tecnopolimero della CAA Tactical, questa è un'impugnatura vera per armi vere ideata e studiata per essere montata su armi corte e lunghe in quanto costruita con materiali di qualità elevata, tecnopolimeri molto resistenti addizionati con materiali leganti molto più performanti. Il montaggio è semplicissimo, ha un passo da 21 mm, il guia wear picantini che si adatta bene su qualunque tipo di slitta voi abbiate, tanto l'arma corta viene inserita, poi tramite una chiave a brugola in dotazione nella busta andate a stringere e a tirare la vite per non farla muovere. Sull'arma lunga il montaggio è semplicissimo, come sull'arma corta, la maniglia è reclinabile tramite questo pulsante che si abbatte facilmente e diventa un'impugnatura orizzontale anziché verticale. Sul suo fondo troviamo un tappo a pressione, materiale gommato, che può far sì che voi possiate inserire qui dentro due batterie per torcia come stivaggio, come scorta.